Torniamo a parlare del caso amoroso Lisernino trovato morto in casa nel quartiere San Lazzaro del capologo Pentro lo scorso 5 luglio. Il fascicolo aperto dalla procura di Serna ipotizza l'omicidio volontario. Il 74enne sarebbe stato colpito alla testa. La squadra mobile, coordinata dal capo della procura Carlo Fucci, sta indagando a 360 gradi. La novità è che nelle scorse ore, oltre al sequestro dell'appartamento dell'amoroso, è stato sequestrato anche l'appartamento di una delle persone interrogate. In attesa dell'esito dell'autopsia del medico legale incaricato Massimiliano Guerriero, che fornirà dati importantissimi sulle ferite della vittima e dunque si siano compatibili con qualche arma o una caduta accidentale, gli investigatori stanno acquisendo ulteriori elementi. Il caso potrebbe presto vivere una svolta decisiva. Grazie.